Quando un terremoto è superficiale, come quelli che abbiamo rilevato a Ischia e come quello del 21 agosto del 2017, creano in un'area molto ristretta degli effetti devastanti. Quindi questa è la caratteristica di questo territorio. Quindi magnitudo del terremoto, quindi energia bassa, ma effetti elevatissimi. Quindi noi abbiamo definito qual è l'area nella quale possono con maggiore probabilità ovviamente verificarsi i terremoti con queste caratteristiche ed è la parte settentrionale, il versante settentrionale dell'Epomeo. E quindi personalmente, insieme ad altri che collaborano con me in questa ricerca, abbiamo proposto che quell'area dove oggi si definisce zona rosso del terremoto del 21 agosto sia un'area indisponibile per un nuovo insediamento abitativo. E proponiamo un insediamento di una struttura scientifica che studi con impegno, con profondità, cosa significa difendersi da un terremoto di bassa energia in un'area come questa. Insieme a questa struttura dovrebbe essere inserita in un'area che noi definiamo un parco scientifico naturalistico e non dimenticando che specialmente Casamicciola è caratterizzata da risorse geotermiche, termali anzi siamo più precisi, termali straordinarie. Quindi è anche un parco del termalismo. Quindi perché questo? Perché abbiamo qui una condizione favorevole, nel senso che sappiamo dove avverranno i terremoti, con quali caratteristiche e quale è l'area, lo sviluppo dell'area dei danni. Quindi mettiamoci a una certa distanza. In realtà quest'area ha una dimensione di due chilometri quadrati, quindi non molto ampio. Quindi perché pensare a una ricostruzione nello stesso punto quando già nel 1883 si è pensato di spostare la città di Casamicciola verso il mare, quindi Perrone e la Marina. Ecco, oggi noi siamo a quelle condizioni.